Eccoci qui pronti per ricominciare, diamo lettura delle prime pagine dei giornali per quanto riguarda lo sport. Non c'è sulla prima pagina del messaggero nulla relativo all'Udinese e allo sport in generale, dunque ci spostiamo direttamente all'interno dove troviamo due pagine che vengono dedicate al quotidiano a questi primi giorni di lavoro di Igor Tudor, il nuovo allenatore bianconero. Il focus di oggi è sui segreti di Igor e riguarda la parte tattica. C'è stata una domanda precisa in conferenza stampa, come giocherete, con quale modulo, ho risposto anche in maniera simpatica, come volete che giochi, ho chiesto ai giornalisti, giocherò come volete voi, ma alla fine ha provato ieri un 3-5-2 che significherebbe non snaturare il modulo che utilizzava anche Oddo, mentre come sapete all'inizio della stagione con De Neri si giocava 4 in difesa, però abbiamo fatto anche noi un'indagine, tra virgolette, su quelli che sono i sistemi di gioco utilizzati da Tudor nelle sue precedenti esperienze, andiamo a vedere che in pratica li ha fatti tutti, perché ha giocato, e qui lo vediamo anche sul messaggero, che ha fatto lo stesso lavoro nel Galatasarai, lì tra il 2017 e il 2018, ha utilizzato il 4-2-3-1, quindi con i due centrocampisti davanti alla difesa, poi il 3-1 finale con il Pauk Salonico, stagione 15-16, ha utilizzato il 3-5-2, che sembra essere il modulo preferito anche per questa sua primissima esperienza in bianconero, e poi con il Karabuk Spor, squadra del campionato turco, ha utilizzato il 4-4-2, ed infine con l'Aiduc di Spalato, dove ha iniziato la sua carriera da allenatore, ha utilizzato il 4-3-3. Questa è la situazione per quanto riguarda i moduli del passato, per quanto riguarda il modulo nuovo, tra un attimo vedremo dall'altra parte come Tudor si è focalizzato, concentrato sul 3-5-2. Molto elastico nella scelta della tattica, il nuovo tecnico derudinese potrebbe non rivoluzionare l'assetto per la volata salvezza. Questa sembra essere la tentazione e la sensazione. Tutte le facce di Tudor, non ha moduli preferiti, dal 4-3-3 nell'ultimo anno con l'Aiduc, ai tre quartisti del Galatasaray, passando per la difesa a 3 del Pauk, il 4-4-2, visto con il Karabuk Spor. C'è da fare una bella precisazione per quanto riguarda l'esonero di Tudor dal Galatasaray, perché si può pensare ad un esonero in seguito a risultati disastrosi, come spesso accade quando l'allenatore viene cacciato, se non in rari casi, e uno di questi rari casi è proprio il caso dell'esonero dal Galatasaray. Perché? Perché è stato cacciato lo scorso dicembre, lo spiega Anthony Seric, l'ex nazionale croato che i friulani ricorderanno del Panathinaikos affrontato in Champions nel 2005, adesso procuratore, il quale spiega che il fantasma di Fatih Terim, l'allenatore che ha fatto la storia del Galatasaray portandola ai successi più importanti, ha provocato il licenziamento di Tudor. Questione di carisma, dice Seric, il Galatasaray di Tudor era stato primo fino alla quindicesima giornata, è bastata una sola sconfitta con il Malatia Spor per sollevarlo dall'incarico, al secondo posto sacrificato sull'altare del guru Terim. Dunque un esonero che non è spiegabile con risultati disastrosi, con classifica pessima, ma con la volontà evidentemente della dirigenza del Galatasaray di portare di nuovo sulla panchina Fatih Terim e di giubilare Tudor che pure stava facendo bene fino alla quindicesima giornata prima in classifica, alla prima sconfitta da secondo in classifica licenziato. Perplessi e fiduciosi una vittoria, ci riusciranno? Ieri al Bruseschi decine di appassionati per Tudor, la lotta per non retrotredere tiene banco, e poi i tifosi non hanno mancato di far sentire il loro calore anche ieri e lo faranno anche a Benevento perché si annunciano almeno 150 friulani al seguito della squadra per la trasferta nel Sagno contro il Benevento che dalla settimana scorsa, proprio in seguito alla vittoria del Crotone alla Dacia Arena che ha spedito nel drama sportivo l'Udinese e con il conseguente sonoro del tecnico Massimo Oddo, proprio con la vittoria del Crotone il Benevento è risultato matematicamente retrocesso. Ed eccoci ancora sulle prove tattiche di Tudor in vista della partita di Benevento. Quel 3-5-2 provato sotto gli occhi attenti dei Pozzo, seduto di un'ora e mezza e prime mosse anti-Benevento. Il tecnico ha chiesto subito alla truppa più aggressività, presente anche il suo nuovo secondo. Ieri è arrivato al Bruseschi e ha iniziato a lavorare l'ex compagno alla Juventus, Mark Iuliano, calciatore della Juventus, ma anche prima della Salernitana, allenatore del Latina, come capo allenatore, adesso è passato a fare l'assistente di Tudor. I media turchi si sono scatenati nei confronti del nostro nuovo allenatore, troppo duri i suoi metodi, ma questo per quanto riguarda i media turchi è un problema, per quanto riguarda invece noi riteniamo che forse possa essere anche questa una delle chiavi per scuotere la squadra. Non conosciamo ancora bene noi giornalisti, quello che fa Tudor e come lo fa, evidentemente chi lo ha scelto lo conosce sicuramente meglio di noi. Restiamo sull'argomento udinese, quindi ci spostiamo da un giornale all'altro, poi dopo andremo a vedere di nuovo sul messaggero altri argomenti, ma vogliamo rimanere sulla parte che riguarda l'udinese senza fare confusione. Dunque siamo sul Gazzettino, dove si punta anche qui sugli occhi dei Pozzo, avete visto ieri sia Giampaolo che Gino Pozzo seguire la seduta di allenamento, gli occhi dei Pozzo e dei tifosi sull'udinese targata Tudor, l'allenamento di ieri presenti Giampaolo e Gino, oltre ad almeno un centinaio di fan bianconeri, domenica il nuovo tecnico potrebbe preferire Perizza e Zampano, e i due titolari, Lopez e Widmer, i titolari rispetto alla partita contro il Crotone. Per quanto riguarda il profilo di Tudor, disegnato da calciatori che lo hanno avuto come allenatori o ex compagni di squadra, da calciatori Igor e Sanguigno, saprà farsi valere in spogliatoio, Bielanovic scommette sulla futura carriera del suo connazionale. Sascha Bielanovic ha giocato in diverse squadre di Serie A, vestendo poi anche la maglia del Pordenone, e dunque lui ha raccontato il suo rapporto, ha tracciato il suo profilo di Igor Tudor, avendolo conosciuto molto bene. Nuovo arrivo tecnico, vice allenatore di Igor Tudor sarà Mark Iuliano, suo compagno alla Juventus, che ieri pomeriggio si è messo subito al lavoro. Ha raggiunto Udine ieri mattina, ieri pomeriggio era già in tuta, con il fischietto tra le mani, per dirigere insieme a Igor Tudor la seduta di allenamento dell'udinese verso Benevento. E allora adesso parliamo del Pordenone, restiamo nel calcio di casa nostra, con la volata playoff, dopo il bel 4-0 contro la San Benedettese, si avvicina al penultimo turno di Serie C, i neroverdi saranno a riposo, la qualificazione è certa, se il 6 maggio si batte il Renate, altrimenti può farsi dura, 9 team per 6 posti, il Pordenone comunque in questa volata c'è, ed ecco uno dei gol di Zammarini, nel trionfale match contro la San Benedettese, riprodotto in questa foto pubblicata dal Messaggero Veneto, edizione di Pordenone, per raccontare del momento della squadra dei Ramarri, che può davvero farcela, per quanto riguarda i playoff, dovrà battere il Renate, per avere al destino tutto nelle sue mani, come si suol dire in questi casi. Ed eccoci sul Gazzettino, edizione di Pordenone, con la pagina dedicata ai Ramarri, neroverdi, attacco mitraglia, ma una difesa da irrobustire, i Ramarri stanno pagando in classifica i troppi gol subiti, 43, le punte invece sono a quota 45, squalificato Parodi, in vista della sfida al Renate, i Lombardi arrivano da una serie di 6 risultati utili consecutivi, qui ancora un'immagine della partita contro la San Benedettese, l'ex mediano dell'Udinese, cioè Fabio Rossitto, attuale allenatore del Pordenone, è subentrato in panchina a Colucci, con l'obiettivo di centrare gli spareggi promozione, ci sta lentamente riuscendo, anche lui fra qualche alto e basso, ma adesso la situazione sembra essere sicuramente più fluida, anche perché, come ricordano le statistiche del Gazzettino, da 45 giorni, il Bottecchia è diventato un fortino, mentre nella fase finale della gestione Colucci, era diventato un colabrodo dove passavano tutti, e invece non è più così, ha ritrovato la sua solidità il Pordenone, è in casa da 45 giorni, non ce n'è per nessuno, e questo sicuramente è molto importante, e dunque torniamo sul messaggero, però questa volta per passare alle pagine dedicate agli altri sport, perché si avvicina anche per quanto riguarda la palla a canestro, il momento dei play-off, facciamo un passaggio anche sul calcio dei dilettanti, perché in questo finale di stagione cominciano ad arrivare i primi verdetti, e c'è stato un turno di campionato di eccellenza, la Virtus Corno prudente, l'oltre la infilza di rigore, è finita 1-0 per la squadra di Faelis, poi la Mazzanese che rovina la rincorsa al Torviscosa, i padroni di casa vanno a segno nella ripresa, con Corvaglia un minuto e si materializza la beffa di Lius, è il momento però di andare a collegarci con Maria Gabriella Rossini, Ispettore della Polizia Locale di Udine per la situazione del traffico in città, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Udinese TV, possiamo dire che al momento il traffico in città si mantiene regolare, si ricorda che permangono le chiusure per lavori di asfaltatura, dal tratto di via Marangoni per chi proviene da Piazzale Cella fino all'intersezione con via della Cisterna, di via Cividale nel tratto compreso tra Piazzale Oberdan e via Fruk ed inoltre vi comunichiamo ancora che da oggi al 2 maggio, in piazza 1 maggio, in occasione della manifestazione Stiria Food Festival 2018, sono state istituite alcune limitazioni per quanto riguarda la sosta, quindi si consiglia di utilizzare il parcheggio in struttura. Per altre notizie al momento non abbiamo nulla da segnalare. Grazie, buona giornata per queste informazioni di servizio molto importanti che ci permettono e permettono a chi ci ascolta di evitare di andarsi ad imbottigliare in situazioni difficili, quindi seguite i consigli che ci sono appena arrivati che derivano da alcune problematiche di viabilità che però sono previste, dunque abbiamo la possibilità di comunicarvi in anticipo grazie alla Polizia Locale come comportarvi questa mattina in città per il parcheggio e per raggiungere determinate zone. Ci sono i lavori in via Cividale come ci ricordava l'ispettore, dunque soprattutto da quella parte può esserci qualche problema, però con le nostre informazioni, le informazioni che arrivano dalla Polizia Locale, ci si può superare tutto questo. Andiamo di nuovo sul calcio dei dilettanti perché ieri si è giocato anche in promozione, va al Natisone spuntata e la Juventina vola in anticipo ai playoff, sconfitta a Casalinga che costringe i ragazzi di Cenci a vincere domenica a Cervignano perché il secondo posto è a 9 punti. Da questa parte vedete la classifica con il Flaibano che è già promosso, Flaibano che ha perso contro il Pravis Domini ma una sconfitta assolutamente ininfluente per quanto riguarda la squadra che appunto risulta già promossa. Eccola qui, Flaibano in relax, va a K.O., Aurora Show con sorpasso, la già promossa squadra di Peresson, perde a Pravis Domini, Tarcentina penultima e eccola qui la classifica dei due gironi, promozione gironea con in testa il Flaibano quota 67, anche il Pro Gorizia è stato già promosso, quindi i primi due verdetti, i due squadre che vanno in eccellenza sono il Flaibano e la Pro Gorizia. Qui invece la Maranese che è promossa in prima categoria con il successo sull'Union 91, per Tegada ancora secondo, retrocede in terza il Ciconicco, quindi verdetti dolci ma anche amari con le retrocessioni di chi non ce l'ha fatta a mantenere la categoria e si lotta ancora, altre squadre lottano per evitare di sprofondare nella categoria inferiore. E c'è anche un'altra pagina dedicata ai dilettanti del calcio, si parla di prima categoria, tutti su Cortiula, la profagagna torna in promozione, il mister travolto dai suoi giocatori dopo la cinquina esterna, tagliamento senza scampo, i gol alpini e doppi basso e pontoni. E poi il Codroipo che ha vinto, il profagagna ha vinto 5-0 contro il tagliamento a Dignano, mentre il Codroipo ha battuto i grigionieri che sono stati bravi ma sfortunati, il Codroipo vince con la botta di Turri in classifica, il Codroipo è primo a quota 61 punti, dietro c'è la Risanese a 58, quindi a soli 3 punti di distanza, un campionato in questo caso più aperto, mentre nel girone A della prima categoria il profagagna ha un vantaggio enorme, 66 punti contro i 58 del Vaionta che insegue, e invece nel girone C il Chiarbola è a 51 seguito dal Domio a 46, decisamente più equilibrati questi due gironi. Per quanto riguarda la pallacanestro, playoff in arrivo, si gioca lunedì sera, poi di nuovo mercoledì sera al Carnera e quindi il 5 di maggio la prima trasferta contro il Tortona, vi anticipo già che saremo ovviamente in diretta per la trasferta del 5 maggio, sabato prossimo, il giorno prima di Udinese-Inter, che sarà il lunch match della prossima giornata di calcio, dopo quella ovviamente che vedrà l'Udinese andare a giocare a Benevento. Uno specialista dei playoff, ecco Busciati, se avremo energie mentali andremo lontano, un passo alla volta pensiamo a vincere lunedì. Per quanto riguarda l'altro basket, le donne si registra la vittoria della Delsa ieri nel derby contro il Pordenone, 76-29, una vittoria senza alcun tipo di problema al Carnera per le ragazze di coach Malipomilio, mentre nella serie C-Silver maschile San Daniele-Spilimbergo è semifinale, Bellina spinge i collinari a Cordenons, Desimond esalta la vis e con le qui due risultati, Intermec 57, il Michelaccio 68, Vis 73, Goriziana 71. Queste le vittorie di San Daniele e Spilimbergo che proiettano le due squadre in semifinale. E a proposito ancora, torniamo un attimo perché ho saltato questo dettaglio, le ultimissime per quanto riguarda il Carnera che si va verso il tutto esaurito per le partite di playoff, per la prima, biglietti in vendita presso la Basketball House del Città Fiera e maglietta regalata ai tifosi nella speranza che il Carnera possa presentarsi davvero con un bel colpo d'occhio, tutto bianco-nero, per la gara 1 dei playoff che si giocherà, come dicevamo, lunedì prossimo, poi gara 2, mercoledì, gara 3, sabato, gara 3 in diretta su UD News TV, gara 1, gara 2, ovviamente in telecronaca riferita. Il giorno stesso della partita, quindi di sera, per darvi la possibilità a caldo sia a chi l'ha vista al Carnera di rivederla in TV e per chi non ha potuto vederla per vari motivi di poter dare uno sguardo a quello che succederà, che sarà successo al Carnera nelle prime due partite dei playoff. Abbiamo visto della pallacanesto, adesso non ci resta che andare sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, dove purtroppo si parla dell'aggressione di due tifosi romanisti ad un irlandese tifoso del Liverpool che è in condizioni gravissime ricoverato in ospedale, Roma shock, irlandese in coma dopo un agguato a Liverpool, arrestati due romani, l'accusa di tentato omicidio, l'ira della UEFA, punizioni severissime e quindi potrebbe scattare per la Roma una punizione severissima a causa di delinquenti che hanno seguito la squadra in questa trasferta di Liverpool che avrebbe dovuto essere soltanto una grande festa e in parte, per gran parte lo è stato, risultato pesante 5 a 2 ma comunque ancora con una porticina aperta, la speranza di poter rimontare come è successo nel precedente turno contro il Barcellona ma tutto ciò passa in secondo piano se pensiamo che c'è un irlandese in coma a causa di un'aggressione di due romani che lo hanno accoltellato è stato abbattuto a cinghiate, seri danni cerebrali la vittima si chiama Shen Cox, ha tre figli, i presunti colpevoli hanno meno di 30 anni la società si è detta ovviamente indignata, è un'azione vile, non è calcio previsti tempi lunghi per le sanzioni, pare scongiurato comunque il rischio di un'esclusione dalle Coppe Europee per la Roma mercoledì il ritorno nella capitale che sarà blindata previste eccezionali misure di sicurezza i tifosi organizzati hanno espresso una condanna netta e sempre per quanto riguarda la Champions questa volta però parliamo solo di calcio giocato il Real vince in rimonta all'Allianz Arena di Monaco con il Bayern finisce 2 a 1, il tecnico Zidane vede la terza finale consecutiva le ultime due peraltro le ha pure vinte andiamo a vedere gli altri due giornali la Gazzetta dello Sport, Scalata Real lo spazio qui in apertura è per la vittoria dei Blancos contro il Bayern di Monaco battuto in casa 2 a 1, ritorno al primo maggio Zidane prenota la terza finale consecutiva Kimmich illude i tedeschi poi Marcelo e Asensio firmano la rimonta dei Blancos gli spagnoli vincitori delle ultime due Coppe si vedono già a Kiev ma insomma in semifinale non bisogna dare mai nulla per scontato l'agguato di Liverpool vedete le foto di quello che è successo tifoso in coma UEFA durissimi ecco che cosa rischia da Roma un irlandese sostenitore dei Reds lotta con la vita 5 oltre a fermati per il club si profilano multe e trasferte negate ed ecco qui una delle immagini dell'assalto che ha visto protagonisti i tifosi della Roma che hanno assaltato un gruppo di tifosi del Liverpool uno dei quali Sean Cox che è a terra eccolo qui colpito ed è in coma adesso a causa delle botte rimediate soprattutto delle cinghiate è stato preso a colpi di cinghia davvero un agguato vile da parte di due tifosi della Roma che sono stati arrestati e c'è tensione invece in casa della Juventus dopo la sconfitta contro il Napoli mentre a Napoli c'è euforia a Vinovo a Cori fumoggi in un confronto con giocatori oltrà ma non è una contestazione noi siamo qui per incitare clima di festa a Castelvolturno almeno in 10.000 seguiranno la squadra nella trasferta di Firenze poi ancora dalle altre sedi San Siro Fort Inter in casa un solo KO ed è questo l'alleato dei Nerazzurri basket Avellino battuto Venezia fa il colpo in Europe Cup e la praticamente ha l'Europe Cup in mano l'Europe Cup in pratica è l'equivalente della chiamiamo la Coppa dei Campioni nel basket ci sono due coppe tra europee c'è la Eurolega che è un'organizzazione però privata che organizza questo che è un campionato ormai non è più una Coppa ma è un campionato nel campionato le squadre più importanti si affrontano in tante giornate l'una contro l'altra nel girone classico all'italiana sono in 16 poi avevano fuori 8 quindi i 4 che fanno la Final Four ma è un campionato nel campionato in cui si gioca tutte le settimane in pratica e poi c'è la Euro Cup che è quella organizzata dalla federazione ufficiale la FIBA che organizza le competizioni e in questo caso Venezia ha fatto il colpo e ha la Europe Cup in mano nella partita che ha vinto dopo aver battuto Avellino Volley finale uomini e donne Super Conegliano mentre Civitanova va sull'1 a 1 questa è la gazzetta adesso andiamo sul tutto sport sondaggio tra i tifosi della Juventus per quanto riguarda Allegri e il sondaggio dice no 53% quindi la maggioranza dei tifosi della Juventus anche se non è una maggioranza larghissima 53 contro 47 non si fida più di Allegri dopo il K.O. contro il Napoli dopo anche la sconfitta a Madrid tifosi bianconeri scatenati su tutosport.com a sorpresa la maggioranza vota contro la permanenza del tecnico che ha vinto tre scudetti e tre coppe il sogno per la panchina sarebbe Jurgen Klopp ma le alternative più realistiche sono Simone Inzaghi e Pocettino Pocettino allenatore del Tottenham l'altro mercato non solo Martial e Darmian tre possibili affari con lo United nel Milino oppure Pogba e Fellaini la sfida scudetto Rugani e Barzagli in ballottaggio per sostituire Chiellini il popolo del Napoli si prepara invece ad invadere Firenze ed ecco qui Max Allegri messo un po' sotto torchio dall'ambiente e andiamo a vedere qui in basso il Torino invece dopo le parole di Cairo il Toro che verrà ecco i punti fermi tra questi c'è probabilmente Adem Liaic 26 anni caccia al bombe il Milan potrebbe riportare in Italia un ex nostra conoscenza Muriel difficile arrivare a Gieco e Belotti l'ex Sandoriano ha un costo più accessibile e vuol tornare in Italia al Siviglia benino non benissimo a cavallo delle due gestioni tecniche sulla panchina quella attuale di Montella ha avuto spazio non è stata una stagione fortunatissima dal punto di vista del rendimento per quanto riguarda Luis Muriel invece per la Champions 5 oltre della Roma arrestati quindi qui leggiamo di 5 non di 2 tifoso del Liverpool in coma la UEFA minaccia dure sanzioni poi l'altra semifinale CR7 no Marsello Asenzio colpo reale a casa del Bayern finisce 2-1 in una giornata in cui non ha brillato la stella di Cristiano Ronaldo ma possiamo dire che ogni tanto una pausa se la può pure prendere visto quello che riesce a fare continuamente con la Maia del Real sia in campionato che in Champions League c'è gol a raffica trascina il Real in tutte le competizioni l'ha fatto anche contro la Juventus e dunque può prendersi anche una pausa soprattutto se i suoi compagni in questo caso Marsello e Asenzio rispondono presenti e firmano i due gol della rimonta contro il Bayern di Monaco che pone Real Madrid davanti nella percentuale con la possibilità davvero di poter arrivare alla terza finale consecutiva tra un attimo andremo a collegarci con l'Osmer per sentire del tempo e abbiamo il collegamento pronto con Sergio Nordio buongiorno Buongiorno Condizioni di tempo buone al momento sul Friuli Venezia Giulia con cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso però ci aspettiamo un cambiamento nelle prossime ore arriverà un fronte dalla Germania che valicherà le Alpi una perturbazione che porterà nel pomeriggio un aumento della nuvolosità sulla zona montana e anche delle piogge che saranno anche abbondanti su gran parte del territorio montano possibili dei rovesci e qualche temporale successivamente direi verso sera anche in pianura e poi diciamo nella notte questa fase si esaurisce comincerà a soffiare un po' di vento da est nord est un po' di bora che a tratti sarà sostenuta sulla costa specie a Trieste come sempre bora ci accompagnerà fino a domani mattina il fronte se ne va resta un po' di umidità quindi domani mattina una certa nuvolosità ancora presente sul territorio una tendenza poi al miglioramento direi che poi in gran parte della giornata di domani vedremo il sole con cielo poco nuvoloso e vento che sarà già completamente attenuato quindi una fase un peggioramento molto rapido destinato appunto a durare poche ore grazie buongiorno e grazie a Sergio Norbio buon proseguimento di giornata prima di chiudere il buongiorno Friuli abbiamo iniziato con il traffico torniamo a vedere se la situazione è migliorata definitivamente oppure se siamo con le stesse problematiche di prima e come vedete la striscia rossa di difficoltà nel traffico a causa di tante auto incolonnate sulla A23 e sulla A4 è la stessa di prima anzi il traffico è aumentato anzi hanno diminuito c'è un po' meno traffico sulla tratta dell'A4 dal Bivo di Palmanova a Trieste dove come vedete la striscia rossa non arriva più a ronchi dei legionari ma si ferma a Villesse dove come vedete in direzione Bivio A4 sulla A34 Villesse-Gorizia code a causa del traffico sostenuto e poi i soliti restringimenti di careggiata per i cantieri della terza corsia vi ringrazio per averci seguito buon proseguimento di giornata con Udi News TV oggi dunque il telegiornale come sempre in diretta alle 13.30 replica 14.30 e poi in diretta alle 19 replica 20.30 22.30 questa sera esordisce anche un altro programma della nostra rete con studenti eccellenti un programma curato e condotto da Alberto Terasso che presenterà gli istituti scolastici superiori della nostra regione la loro offerta formativa ci saranno gli alunni in studio i docenti si parlerà della storia degli istituti scolastici superiori della nostra regione che hanno una storia davvero importante alle spalle una lunga tradizione ci saranno collegamenti con studenti eccellenti da qui anche il titolo che hanno frequentato quegli istituti e poi sono diventati professionisti di importante di importante livello tutto questo questa sera a partire dalle 21 sulla nostra rete con Alberto Terasso e questa sera il primo istituto sarà l'educandato del Uccellis di Udine buon proseguimento di giornata con Udine News TV e la nostra rete